Musica Eccoci qua cari telespettatori, siamo in vostra compagnia e quest'oggi parliamo di liberazione, come si può fare, se si può fare, dai campi elettromagnetici. Magari fosse possibile ovunque, effettivamente siamo occlusi, circondati, oppressi da varie situazioni gravi, inquinanti, dannose per la nostra salute, per le nostre capacità, per la nostra libera espressione anche di pensiero e non ce ne rendiamo conto. Molti nascono in questo ambiente altamente inquinato, altamente pericoloso, vivono in certi livelli anche di pressione e di oppressione, per cui è difficile poter concepire un'esistenza diversa. Provare la differenza aiuta invece a capire che c'è qualcosa che non va. Parlavo col mio ospite che adesso vi presento subito, Enzo Anastati, ben arrivato qui con noi, presidente dell'Istituto Eureka di Codroipo, grazie che ci supporterà, parlavamo così fuori onda tranquillamente, è come andare in montagna, respirare un'aria a 1500 metri senza andare ad altitudini elevate, limpida, pulita, dallo smog, oppure fare un bel respiro, soltanto fare una passeggiata nella pianura padana, nel cuore della pianura padana. Vi rendete conto della differenza e questo è un grosso problema, perché è innegabile, dopo bisogna vedere quanto, fin dove ci fanno arrivare gli organi di informazione, perché ci sono degli interessi economici mostruosi, è innegabile che questo danneggia la nostra salute, per quanto l'uomo abbia una capacità di adattamento all'essere vivente, una capacità di adattamento straordinaria, come anche le piante e tutto, però c'è un limite dall'adattabilità. E allora io vorrei che incominciare, che lei ci raccontasse partendo dallo spunto che a me ha incuriosito molto, perché voi avete organizzato un incontro, un momento di confronto, di un convegno, eccetera, che era anche aperto, tra l'altro, proprio vicino alla base dei Colliugani, sulle Abazie di Praglia. E lì avete affrontato il discorso non solo dei campi elettromagnetici, dove si trovano queste fonti dannose per la salute, come si potrebbe anche ovviare a questo. E là dico, ma perché non informiamo anche un po' un minimo i nostri telespettatori di dove viviamo, di che cosa si potrebbe fare. Insomma, se non altro, mettergli la pulce nell'orecchio, poi giustamente non tutti possono provvedere, però se non altro, evitare di danneggiare ulteriormente. Sì, bene. Grazie. L'argomento, come si suol dire, è enorme e, come ha detto giustamente, tocca anche degli interessi e delle problematiche varie. Innanzitutto bisogna un po' dividere questi campi elettromagnetici fra due categorie, proprio macro-categorie, quelli naturali e quelli artificiali. Quelli naturali, che provengono dal Sole, dai pianeti, dalle stelle, e il nostro organismo, come la Terra e le piante, ne hanno bisogno. Quindi, come diciamo, l'elettromagnetismo naturale è una fonte per noi di vita. Dobbiamo stare molto attenti. Poi c'è quello artificiale. A un certo punto, quello artificiale è provocato dall'uomo e potremmo, come dire, riassumerlo nella frase che la quantità cambia la qualità. Questa overdose di campi elettromagnetici artificiali, quindi prodotti dall'uomo, fa sì che il nostro organismo, a un certo punto, non abbia più quelle funzionalità che aveva quando era giustamente immerso in quelli naturali. Questo è il primo punto. Quindi ti limita le tue facoltà, in qualche modo. Va a comprometterle. Quello artificiale, a un certo punto, modifica l'azione di quelli naturali. Quindi se quelli naturali servono per il mio bioritmo, per certe funzioni cellulari, le membrane, il sangue, c'è tutto degli studi fatti su questo, dal momento che io, come dire, eccedo, facciamo un esempio facile. Io vado a pranzo, mangio, mangio, mi permette di arrivare fino a cena. Ma se a quel pranzo io mangio il triplo, io non arrivo fino a cena. Mi distendo su un divano, su una poltrona e aspetto una, due, tre, quattro ore, secondo le mie capacità, per potermi riprendere. Quindi l'overdose, l'eccesso, inficia l'azione naturale, benefica, dei campi elettromagnetici naturali. Anche la radioattività. Deve sempre stare attenti che esiste anche una radioattività naturale che benefica. Quando un seme germina, emette un campo di radioattività. Quindi la radioattività, che è l'estremo, se vogliamo dire, fa parte dei processi naturali. È l'artificiale, che a un certo punto ha snaturato completamente la situazione e quindi noi, immersi in una situazione, come dire, che va in eccesso, altera tutte le nostre risposte biologiche. Questo proprio per dirlo in due parole. Dopodiché, nel mondo dei campi elettromagnetici artificiali, ci sono quelli a bassa frequenza, che sono quelli degli elettrodomestici, per capirci, e quelli a media frequenza, possiamo arrivare al televisore, e poi quelli ad alta frequenza, che man mano che aumenta la frequenza, aumenta il danno, e sono soprattutto il wifi, cellulari, questo mondo qua. Quindi ci sono delle, come dire, delle articolazioni diverse, e bisogna trovare delle risposte diverse a questo tipo di problemi. Un altro problema, ad esempio, che non si tiene in considerazione, è il fotovoltaico. Fotovoltaico è un'energia rinnovabile, c'è questa corsa, adesso un po' di meno, al fotovoltaico, però vivere sotto un tetto col fotovoltaico, noi abbiamo dei sistemi per misurare, per verificare queste cose, crea una situazione, diciamo così, di disordine nelle funzioni interne della persona. Il prima... Cioè perché si è schermati, cioè cosa succede? Noi facciamo delle pitture, diciamo delle vernici, con cui dipingiamo il retro del pannello fotovoltaico, o i cavi che scende fino a portare in casa, e questo, prove e fatte, è sufficiente per schermarne l'azione. E l'azione è soprattutto, un'azione abbiamo detto di disturbo interno, ma anche, se li ho sopra la testa, potremmo chiamare di ottundimento della coscienza. La mia capacità di pensiero, la mia capacità di creatività, di essere intuitivo, sveglio, si incomincia a perdere. Addirittura. Ma non a livello consapevole, cioè magari una persona se ne rende conto facendo la differenza con un ambiente dove non c'è... Sì, perché ci siamo abituati a tutto. Questo è il problema. Quando uno è abituato, crede che quella sia la normalità. Come ha fatto lei giustamente l'esempio, ti fai una respirata ad aree d'alta montagna e ti accorgi dove vivevi fino a un'ora prima, diciamo. Questa è la situazione. Allora, il problema è non schermare dei campi elettromagnetici, perché se io riuscissi a schermare dei campi elettromagnetici, la mia lavatrice, il mio cellulare, quello che è, non funziona più. Addirittura. Eh sì, perché il motore elettrico ha bisogno di un capo elettromagnetico per girare. Quindi se io tolgo l'elettromagnetismo, il motore non funziona. E per il motore intendo tutto quello che deriva. Benissimo. Quindi il nostro lavoro non è stato quello di schermare dei campi elettromagnetici, ma è stato un lavoro, mi permetto, più sottile, lasciare che il campo magnetico funzioni nella lavatrice, nel frigorifero e tutto quello che noi vogliamo, ma non agisca sul vivente. Quindi creare una specie di barriera, una specie di filtro tra l'azione del campo elettromagnetico sull'inorganico e quella che può avere sull'organico. quindi è stato, insomma, è interessante, mi permetto di dirlo da solo, creare questa barriera, ci abbiamo lavorato sopra qualche anno, finché siamo riusciti a individuare una via, un modo per creare questa azione di protezione. Ecco. Allora, una protezione che agisce in che termini, che tipo di protezione è? Spieghiamo, anche se mi rendo conto della difficoltà. Parliamo in modo molto semplice. Molto semplice però nella divulgazione. Noi ci siamo appoggiati gli studi che ha fatto la NASA. Quando si dice la NASA abbiamo risolto. La NASA aveva il problema di disinquinare le navicelle aeree perché là dentro c'è di tutto, oltre che campi elettromagnetici sostanze varie e quindi diceva come possiamo disinquinare perché questo astronauta magari sta su tre mesi ne risente nelle sue facoltà mentali e quindi non è più così sveglio per reagire a qualche emergenza. E hanno visto che il modo migliore sono le piante. importare delle piante dentro nell'abitacolo. C'è tutto uno studio non sto adesso a dilungarmi e hanno individuato una dozzina di piante cosa fanno cosa non fanno. Noi tra questa dozzina di pianta per vari motivi motivi anche di praticità di gestione in casa abbiamo scelto la dracena la dracena la dracena compacta è una piantina che diciamo che richiede eccola qua la stiamo vedendo verissimo richiede poche cure ci si può anche dimenticare di bagnarla per dieci giorni e lei resta resta tranquilla e questa pianta ha una capacità naturale di interagire con i campi elettromagnetici quindi è una pianta da interni da interni questa è da interni però è più da interni però ha bisogno di luce sì ma è abbastanza rusticone ripeto non è non è una pianta delicata perché se prendo una pianta o che viene troppo grande o che è troppo delicata o che ha bisogno appunto di luce di quell'umidità diventa una difficoltà in più ripeto questa è una pianta che si può dimenticare per dieci giorni e lei non ne risente lo dico perché ce ne siamo accorti anche noi detta chiara insomma poi alla fine succede anche questo quindi cosa abbiamo fatto dall'altra parte noi abbiamo individuato delle sostanze naturali altro capitolo che hanno questa capacità di interagire con i campi magnetici ad esempio c'è una piantina si chiama tillansia una piantina piccola una spanna neanche che cresce sui fili della luce lei non cresce per terra mai poi radica sui fili della luce oppure sulle cortecce degli alberi dove c'è un campo elettromagnetico molto forte si nutre di campi elettromagnetici si nutre perché non ha radici non ha terra radica ma non ha una radice che è minima direttamente sul filo elettrico e di cosa vive? del campo magnetico allora queste cose ci sono la tillansia è conosciuta insomma in certi ambienti allora se io posso prendere la capacità della dracena e la capacità di questa tillansia e in qualche modo le unisco allora io abbiamo estratto dalla tillansia con decotti macerati questi suoi diciamo i principi attivi con questi principi attivi abbiamo impregnato dei granuli di argilla espansa e l'argilla espansa l'abbiamo messo sotto la dracena sotto le radici poi abbiamo fatto tutta una serie di prove che adesso le foto ci sono non so se arriveranno ma poca importanza abbiamo lavorato due anni a fare queste prove per calcolare quanto grande il granulo l'impregnazione eccetera eccetera e poi alla fine che sono gli atti che abbiamo presentato a Praglia abbiamo visto che per due metri intorno ad una postazione di computer noi siamo totalmente libri ecco questo è il cosiddetto germinatoio rotante che abbiamo fatto in modo che lì ci sono tutte le piantine zoomare credo che sia una cosa impossibile sono tutte le piantine di frumento che abbiamo messo a germinare fino a 4 metri di distanza al centro col cerchio rosso se si vede c'è la dracena e la postazione del computer e semplicemente si misura la germinazione l'altezza delle piante quindi per vedere la vitalità quindi questa pianta costituisce fa uno schermo uno schermo naturale diciamo protegge fa uno schermo naturale sul vivente quindi se uno sul suo un ufficio diciamo non deve andare al limite massimo che sono due metri ma diciamo a un metro di distanza qua c'è il computer lì si mette la dracena a una zona ripeto due metri di raggio che è totalmente protetto poi è protetto anche a tre metri però dipende sempre la sensibilità della persona perché se noi abbiamo due persone con lo stesso mal di denti una persona avrà bisogno di un'aspirina l'altra ne ne basta mezza e lì c'è un discorso dell'organismo più o meno sensibile dell'otturazione dei denti che è una cosa che abbiamo visto abbiamo visto è storia bibliografia che proprio moltiplica l'effetto di questi campi elettromagnetici anni moltiplica sì soprattutto l'amalgama i vecchi amalgami che diciamo tanta gente che è sensibile scopre che tolto l'amalgama li perde questa ipersensibilità quindi non si fanno più nemmeno però se uno comincia a avere 40 anni qualche dente se l'ha già fatto con l'amalgama ha questo rischio maggiore poi come sempre ripeto chi vive in un giro d'aria non prende niente l'altro solo si apre un momento la porta e star nutre non star nutisce quindi ci sono sensibilità diverse ci sono anche ipersensibilità noi abbiamo provato anche con gli ipersensibili e abbiamo visto che questa protezione c'è quindi usando la dracena questo è il sistema più semplice perché copre sia la bassa frequenza che l'alta frequenza ecco questo è uno dei primi risultati che abbiamo raggiunto poi vediamo se c'è interesse parleremo no 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 ma l'interno effettivamente la cosa è anche molto particolare e interessante perché allora ci sono questi habitat dove si creano queste situazioni di campi elettromagnetici e sono quelli dove noi viviamo tanto di lavoro tanto di studio le aziende le fabbriche poi particolari ma perché nell'arredo urbano non si provvede in questo senso visto che comunque sono delle situazioni benissimo l'inquinamento che c'è con anche altre piante perché poi voi ne avete elencate un bel po' che possono costituire da schermi importanti anche per le polveri sottili poi per i metalli pesanti i metalli pesanti sono un'altra tragedia esatto io quando lei ha fatto la domanda mi sono messo a sorridere perché in realtà è una piaga dolorosa questa della mia vita perché basterebbe usare l'arredo urbano mettere questi granuli soprattutto sotto i larici però sono studi bisogna farlo in pratica bisogna avere un assessore che ti dica di sì perché non posso venire andare in piazza da qualche parte noi potremmo bonificare una città dai campi elettromagnetici infatti è questo che tipo di preclusione viene data soltanto speri non ci sono prove scientifiche non dico nomi però c'era una città del nord del nord ovest che aveva quei corsi lunghi 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 uno si chiama Corso Francia è lungo 13 chilometri e ho proposto sono viali alberati di fare un intervento su metà del viale tenere l'altra metà del viale come testimone proprio sui metalli besanti per pulire l'aria siamo arrivati dall'assessore di turno poi un altro assessore dice ma se dobbiamo buttare via i soldi c'ho io un amico che gradisce l'avevo detto già troppo per cui non siamo riusciti a fare niente perché il sistema non è così aperto prova che facevo titolo gratuito poi si vede poi se ne parla cioè noi potremo risanare l'aria delle città ma non solo l'aria da cosiddetto elettrosmog polveri sottili ma anche i metalli pesanti che è un problema giustamente non da poco ecco usando proprio l'arrivo urbano gli alberi esatto e ci sono già però vediamo se magari oggi è la giornata buona se porta bene la tv 7 ecco e per quanto riguarda in Europa invece sono un po' più avveduti perché immagino che poi le vostre ricerche in Europa dopo ho fatto un bello studio l'ha fatto se non sbaglio era la Mercedes e hanno fatto uno studio molto semplice nel loro chiamò palazzina uffici che non era INA ecco questo fabbricato dove avevano tutti gli uffici era di tre piani hanno fatto una cosa semplice a piano terra hanno tolto tutte le piante a piano intermedio hanno messo un po' di piante piano nobile hanno riempito di piante le piante d'ufficio e poi non hanno fatto nient'altro dopo un anno hanno verificato l'assenteismo diciamo spontaneo e hanno visto che dove c'erano le piante d'appartamento l'assenteismo era molto molto minore non ricordo il dato perché non ero mi ricordo l'evento però hanno verificato che quindi tenere le piante nell'ufficio al di là del potenziale come facciamo noi solamente questa capacità naturale dà benessere e quindi le persone invece che il corpo a un certo punto chiamare malattia non so ogni tre mesi una settimana dico per dire ma c'è un benessere di fondo questo l'ha fatto la Mercedes ecco quindi non stiamo parlando dell'ultimo arrivato non è l'ultimo arrivato e sanno cosa fare ecco che consiglio allora dare per quanto riguarda i normali cittadini oppure chi ha anche magari imprenditori che ci possono seguire per migliorare le condizioni di vita poi vediamo anche di salute in che termini perché poi l'aspetto salutistico è altrettanto importante io qui devo presentare i risultati della ricerca non posso allargarmi troppo però noi come lavoro facciamo anche proprio rilievi di appartamenti o di posti di lavoro anche officine adesso stiamo risanando un posto di lavoro molto grande con un carico elettrico di 1200 kilowatt che corrisponde a 400 appartamenti stiamo risanando da wifi e tutto questo mondo qua bisogna saperlo fare mi è un po' difficile rispondere senza andare in conflitto di interessi diciamo diciamo che non è che lo può fare cioè una pianta giova ecco una pianta può già aiutare una pianta da sola non è proprio sufficiente uno dovrebbe farsi un po' un giardino diciamo intorno poi bisogna sapere che piante anche è lo spatofiglio ad esempio però è una pianta già che deve essere alta che so un metro per avere l'effetto della dracena allora comincio a avere una pianta alta un metro sulla scrivania e diciamo che o c'è lei o ci sono io per dirla così ecco quindi ne abbiamo individuato questa pianta qua poi ci sono dei sistemi anche per schermare i cavi tutta una serie di soluzioni che ci sono il più semplice il casalingo è mettersi questa pianta sulla scrivania o anche in casa vicino alla televisione dove uno ha bisogno sul comodino anche di notte perché sappiamo che poi le piante di notte buttano fuori la lente carbonica sì ma non è proprio così che uno muore tutta quella che metto io è molta di più quella che metto io ma ad esempio faccio una cosa molto pratica a livello domestico noi parliamo di campi elettromagnetici però diciamo chi conosce sa che sono due i campi c'è il campo elettrico e il campo magnetico non voglio tediare il campo elettrico non è così cattivo il problema è il campo magnetico perché noi abbiamo il sangue che gira il sangue che gira c'è un nucleo ferritico quindi una bobina col ferro come avere un circuito elettrico che gira quindi se sono immerso in un campo magnetico questo circuito che ho dentro di me produce una microcorrente e altra le mie microcorrenti la biochimica quindi a un certo punto io sono alterato non dico di più bene allora il campo magnetico non dici di più perché vuol dire che le cellule si possono vabbè riprodurre in modo alterato semplicemente il campo magnetico se ho un filo elettrico il campo magnetico agisce per circa un metro di raggio intorno quindi molto banalmente se io dormo soprattutto quando si dorme e ho il filo elettrico che ho le prese classiche delle abajur sui due comodini che mi passa dietro la testa come in quasi tutte le case perché quando si fa l'impianto si fa la via più breve io trovo dietro la testa questo campo magnetico questo mi crea disturbi anche nel sonno nella qualità del sonno tutto quanto quindi lì sarebbe da eliminare questo campo magnetico o sposto il letto non è facile lo so oppure bisogna diciamo chiudere l'impianto elettrico ci sono delle apparecchiature degli interruttori particolari che si mettono nel quadro elettrico si chiamano disgiuntori e diciamo quando tutto è spento in casa loro staccano la corrente in realtà mandano una micro corrente che quando io accendo la lampadina questa richiama la corrente generale e nel giro di 30 30 centesimi di secondo la lampadina si accende impiega un attimo ma un attimo e a questo punto io dormo fuori dai campi magnetici ecco questo è un sistema lo dico tanto io non mi riguarda consiglio di comprarne uno buono uno che costa 250 300 euro 400 al massimo uno ha risolto anche questo problema però di giorno io devo avere tutte le mie apparecchiature accese perché lavoro faccio e quello che è allora tutto questo sistema non funziona è un sistema buono per la notte che è importante perché la qualità del sonno ti dà la qualità del giorno assolutamente sì bene quindi queste due cose pratiche quindi ma neanche quindi questi campi non sono schermati neanche dalle classiche non so dei letti in legno che possono essere nulla di tutto questo c'è chi mette il cellulare dentro il cassetto neanche questo non serve io sono convinto che qua dentro se accende il cellulare prende quindi il cellulare ormai ce l'hai dappertutto no no non è questo quello forse un altro consiglio pratico forse per dare qualcosa a chi ci ascolta è proprio sul cellulare tutte le prove che abbiamo fatto il cellulare già questo campo è forte ma soprattutto quando fa la prima chiamata che io ricevo o chiamo il primo dream per capirci l'impulso di campo elettromagnetico è circa 20 volte più forte della telefonata normale allora siccome l'altra persona probabilmente non è pronto a rispondere io posso tenere il cellulare qui chiamo sento il dream al secondo dream lo metto davanti all'orecchio e parlo perché è assurdo mettersi a aspettare che arrivi il primo dream perché questo è quello che fa peggio di tutto la primo segnale di chiamata di aspettare che squilli un attimo che squilli il primo chiamata basta proprio la prima perché abbiamo fatto le misurazioni la prima fa così e poi 20 volte circa maggiore addirittura sì e quello è stupido perché ripeto la persona non è lì l'immediato a rispondere e se anche risponde subito ti dà umanamente quel secondo per rispondere anche te non è che siamo degli scattisti sul cellulare no assolutamente torniamo su questi discorsi e anche approfondiamo altri analoghi dopo la pubblicità tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti